Tornando a casa, Jekyll comincia il suo scontro con la sua parte malvagia e gli assicura che presto riuscirà a liberarsi lui, ma Jekyll gli risponde che ciò non dovrà mai accadere perché loro sono una cosa sola. Sì, sì, sì. A quel momento avrò la risposta, non avrò un acce finché io vivrò. Sei un pazzo a credere che ti permetterà di fare di me quello che vuoi. Sì, sì. 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 Sì, sì. 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 bravo grazie a tutti